Ve li voglio presentare perché sono straordinario, sono molto orgogliosa di averli come cast Simone Colombari, Floriana Monici, Aaron Borelli, Samuele Cavallo, Lorenzo Tognocchi, Fabrizio Checcacci, Mario Acamba, Martina Biscetti, Loredana Fadda, Cristina Benedetti, Silvia Di Stefano e Loretta Grace con gli occhiali! Ragazzi, incominciamo e regaliamo un po' di musica a questi signori gentilissimi che sono intervenuti. Ragazzi, ragazzi, ragazzi un po' di musica aNA Sì 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 Grazie. 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 Grazie.